Per un caso fortunato è stato ritrovato un grande quadro ottocentesco del pittore pordenonese Michelangelo Grigoletti. L'ultimo colloquio del doge Francesco Foscari con il figlio Jacopo sarà esposto a Palazzo Ricchieri fino al 3 settembre prossimo. Un'occasione per visitare il Museo d'Arte, dove è allestita anche la mostra Viva Galvani, un viaggio tra radici ed identità per riscoprire il grande patrimonio culturale, artistico, imprenditoriale della nostra città. Salendo le scale del Museo Civico di Pordenone l'impatto è meraviglioso. Si può ammirare fino a settembre questo Grigoletti ritrovato. Il Grigoletti ritrovato assieme alla mostra di Galvani qua sotto fa sì che il Museo Civico racconti proprio la storia di Pordenone, le radici di Pordenone, le radici artistiche, le radici creative, persino le radici imprenditoriali. È un'occasione unica per i pordenonesi e non solo per venire a riscoprire non il Museo del Comune, il loro museo, perché il Museo Civico è il museo dei cittadini. Si restituisce finalmente alla visibilità pubblica un'opera che si credeva perduta. Michelangelo Grigoletti, grande artista dell'Ottocento originario di Pordenone, ma forse più conosciuto a Venezia e in questo caso anche all'estero, per questo ultimo colloquio del Doge Francesco Foscari con il figlio Jacopo, un'opera che lui realizzò in prima battuta per l'imperatore d'Austria Ferdinando I e ripropose su commissione di John Barton Phillips e della moglie Joanna nel 1844. Oggi finalmente è possibile rivederlo in un luogo pubblico per ammirarne la bellezza.